Ciao a tutti e ben ritrovati. Abbiamo provato ed oggi scopriamo insieme un nuovo top di gamma Samsung, il Galaxy Tab S2 da 8 pollici in versione LTE, un tablet al vertice della sua categoria per prestazioni e design, elegante, sottile e leggero. Scopriamo le sue caratteristiche tecniche e dopo trarremo le nostre conclusioni. Ed eccoci qui davanti alla confezione di questo S2, ovviamente la apriamo, all'interno oltre al tablet troviamo la guida di riferimento rapida, un alimentatore da 2A, il cavetto microUSB per la ricarica e il pin metallico per l'estrazione dell'alloggiamento dove andrà collocata la microSIM e anche quello per la microSD. Come abbiamo detto in apertura, l'S2 che abbiamo provato ha uno schermo da 8 pollici, le dimensioni sono di 134.8 x 198.6 x 5.6 mm per un peso di 260 grammi, quindi estrema leggerezza unita a uno spessore molto sottile, appena 5.6 mm, quindi ufficialmente uno tra i tablet più sottili in commercio. La versione che oggi abbiamo tra le mani è quella nera, ma esiste anche in versione gold, con una bella cornice metallizzata che gli conferisce un look moderno ed elegante. È un dispositivo di ottima fattura con un assemblaggio davvero ben fatto e delle plastiche di ottima qualità. Sul fronte del tablet troviamo in alto la fotocamera frontale da 2,1 megapixel e il sensore di luminosità. In basso invece troviamo il tasto ON fisico, con lettore di impronte digitali integrato, e due tasti virtuali, tasto back e tasto multitasking. Sul retro del Galaxy Tab S2 troviamo la fotocamera da 8 megapixel con autofocus. Come per altri modelli già visti in passato, se vi chiedete cosa sono questi due bottoni, semplicemente permettono di agganciare comodamente una cover. Il lato sinistro è completamente pulito. In basso troviamo invece microfono, speaker, jack audio e connettore micro usb. Sulla destra in ordine troviamo il tasto di accensione e spegnimento, il bilanciare del volume e più in basso lo slot micro usd di espansione memoria e quello per la micro sim. La versione che proviamo infatti a LTE. Concludiamo in alto con un secondo microfono per la riduzione del rumore. Fine, ricordiamo che il Galaxy Tab S2 da 8 pollici è dotato di accelerometro, giroscopio e bussola. Per quanto riguarda le specifiche squisitamente tecniche, si tratta di un dispositivo di tutto rispetto, con prestazioni molto interessanti grazie al processore i-core da 1,6 GHz e 3 GB di RAM. La memoria interna è 32 GB, espandibile fino a 128 GB grazie allo slot, come abbiamo visto, per micro usd. Il Galaxy S2 ha un display Super AMOLED touchscreen, molto luminoso e con colori brillanti, con neri profondi e con un buon angolo di visione. La risoluzione è di 2048 x 1536. La fotocamera è da 8 megapixel con autofocus, in grado di realizzare scatti di buona qualità. Accedendo alla sezione modo, possiamo scegliere tra una buona varietà di modalità di scatto preferita. Pro, per poter controllare manualmente tutti i parametri della fotocamera, oppure panoramica, per scattare appunto foto panoramiche. C'è anche scatto virtuale, per poter fotografare un oggetto a 360 gradi. HDR, oppero High Dynamic Range, per poter scattare foto con un intervallo tra le aree chiare e quelle più scure più ampie. Scatta e scegli, una modalità che scatta una raffica di foto, scegliendo poi in automatico quella migliore. Oppure doppia fotocamera, è una modalità di scatto che chiama in aiuto anche le fotocamere frontali, simpatica per creare ad esempio l'effetto cartolina, ovvero l'immagine di sfondo grande e selfie a francobollo. Poi qui in basso, tramite il tasto scarica poi, è possibile scaricare gratuitamente altre modalità di scatto interessanti. Andando in alto a destra, troviamo poi il tasto timer per impostare l'autoscatto, 2, 5, 10 secondi. In alto a sinistra, il tasto per accedere alle opzioni specifiche della fotocamera. In basso, vicino al tasto riscatto centrale, abbiamo sulla sinistra il tasto per cambiare la fotocamera in uso. Sulla destra, il tasto per avviare la modalità di registrazione video. Il Galaxy Tab S2 da 8 pollici è equipaggiato con la versione Android 5.0.2 Lollipop, i 32 giga di RAM, rendono davvero veloce l'interfaccia e il multitasking. Grazie all'ottimo processore, poi come potete vedere, anche la navigazione è fluida e scorrevole. In questo caso, ovviamente, siamo sul nostro sito bytecno.it. Discreta la batteria, da 4000 mAh, che ci ha permesso un utilizzo quotidiano ottimale senza ricorrere troppo spesso al cavo di alimentazione. In conclusione, l'S2 offre tutto quello che ci si aspetta da un vero top di gamma, un tablet completo con una buona autonomia e soprattutto delle ottime prestazioni, il tutto condito da uno schermo con una risoluzione incredibile ed anche dalla sua estrema leggerezza che lo rende un'ottima scelta. Come sempre vi invito a commentare qui sotto per le vostre domande e osservazioni. Per acquistarlo invece www.bytecno.it. Ciao, alla prossima!